Carissimi amici della Pogonotomia, eccomi qua di nuovo, chi non muore si rivede, come si dice, ogni promessa è debito e come avevo scritto nei giorni scorsi, le settimane scorse, a tutti insomma quelli della pagina, quelli del canale, insomma, che avrei fatto un video a Natale. Ora io chiaramente vi devo delle spiegazioni perché molti mi dicono ma perché non fai più video, per quale motivo, qual è la ragione? Io ve la spiego perché vi chiedo questa pazienza di ascoltarmi per comprendere le mie ragioni, che io sono veramente, devo dire, quasi commosso quando sento, leggo messaggi di vantorna, vantorna a fare video domenicali, in realtà questo per me ha poco senso in questo momento, vi spiego perché. Il primo motivo è un motivo di tempo, il mio lavoro in questo momento si sta facendo molto impegnativo e quindi io il tempo di, perché girare un video e montarlo, io non lo monto molto, però scaricarlo, far tutto, ci vuole molto tempo, quindi molto, ci vuole un tempo adeguato, quindi per me è una mazzone di tempo. Poi c'è un'altra questione, cioè lo youtuber, come si dicono, come i tuberi, come richiama qualcuno simpaticamente, vive, nel senso non economicamente, chiaramente, dei prodotti che gli vengono orati per essere recensiti. Cioè io non posso acquistare un rasoio di settimana o un sera di settimana per recensire un prodotto, ormai sono cinque anni, quasi quattro, che parliamo di pelo, contro pelo e il dopo barba, il pre barba, cioè ci ripetiamo, ci parliamo addosso, no? Quindi allora io dico, io non ho mai chiesto niente a nessuno, se qualcuno mi manda un prodotto io lo recensisco, ma siccome evidentemente ci mancherebbe altro, cioè non è che io pretenda niente, questo non succede, non ha senso far vedere sempre le stesse cose, cioè rimane uno sforzo, diciamo, fino a se stesso. Infatti oggi sono anche qua perché ringrazio Don Aronociniello che mi ha omaggiato del set, se proviamo vedete ancora in tonso, il set natale 2022 e quindi abbiamo cose da provare di nuovo, no? chiaramente. Ho venduto un po' di rasoi, in particolare i doppioni, in particolare quelli che non usavo mai, anche perché il mercato dei rasoi sta diventando un mercato ripetitivo, cioè io di novità non ne vedo. Io vi confesso che ne avrò venduti una ventina, di questa ventina diciamo 5 o 6 erano doppioni, quindi non ho perso niente praticamente, ma io mi sto redendo con rasoi che sto valorizzando e sto apprezzando finalmente, cioè oggi li fanno quasi tutti uguali, cioè io ho notato che, non faccio nomi di marca che non voglio adesso mettere, alla fine quello è, quindi sì sì acciaio di qua, acciaio di là, un tipo d'acciaio, l'inclinazione, però alla fine sono rasoi che si somigliano moltissimo, quindi e che costano anche un botto, quindi a un certo punto uno dice non è che stiamo collezionando quadri orologici, stiamo collezionando rasoi, voglio dire, quindi a un certo punto dico razionalizziamo, però oggi è Natale e quindi io con un pizzico di, mi scusate, mi immodesti e faccio questo piccolo regalo, spero che lo appreziate in questo senso, che è una toccata fuga ma che magari si potrà ripetere nel momento in cui potrò avere qualcosa da provare, oppure io ho il bagno pieno, devo dire, guarda, io sono otto mesi, penso che non faccia video, e ho finito un sapone, due saponi, ecco, e non ho spazio per averne altri, sono andato in bottega Radonato, io lo sa, e gli ho detto guarda, io ho portato tanti profumi ma saponi, non ho spazio, cioè per finirne uno, a me ci va tre mesi, quindi questa è la storia. Saluto Bruno Glippariello, saluto Nella Terenzi, saluto, insomma, tutti quelli che condividono questo percorso e anche loro penso che condivideranno queste mie affermazioni, cioè a un certo punto tu non puoi acquistare un set di settimana, sia per ragioni economiche, ma sia per ragioni anche di spazio, quindi diventa una cosa non sensata. Chi magari recensisce orologi, telefonini, restituisce poi il telefonino, il sapone come fa a restituirlo, cioè diventa un casino. Comunque, andiamo al solo, apriamo questo set e intanto diciamo con cosa ce la diamo. Ce la diamo con un bellissimo Rocket Flare del 50, questo è del 50, di quelli che sono di più. Questo è un rasoio eccezionale, di una delicatezza e di un'efficacia che io ho scoperto, eccezionale, del 50. semplicissimo, di ottone, credo, Gillette Rocket Flare, che io armerei con una sua Gillette Silver e una Stylus, quindi una rama che grippa, come vedete ho fatto crescere un po' di barba, perché deve essere giustamente, poi magari mi taglio, perché... però ci deve essere un po' di ciccia, se no, beh, ciccia c'è sempre, però voglio dire di barba, quindi da tagliare e provare un bel set. Devo dire che in questi mesi mi sono un po' riconvertito alla ciotola, perché ho visto che montano meglio sulla ciotola c'è dei saponi, ma un po' tutti, eh, un po' tutti. Allora, apriamo questo set di Natale e vediamo cosa c'è, io veramente ero intonso. Allora, c'è questa confezione, ecco qua, abbiamo un sapone, questa volta fa in alluminio nella confezione, abbiamo una crema idratante, quindi la metteremo magari dopo, e abbiamo l'olio di toilet after shave, di solito. Allora io inizierei, sciacquandomi il viso, torniamo ai vecchi metodi. Sciacquandomi il viso, rasoio armato, in acqua, a bagno, c'è questo maiale fantastico, Piretse Union, saluto gli amici dei pirati, guarda quanto l'ho usato, guarda se si è sbiadita la Piretse Union del Marchese, ottima qualità, anche ottima impugnatura, un bel bagnale, e andiamo a sciacquare il viso, così siamo sciacquati. Poi estraggo, per la prima volta, è proprio la prima volta, eh, dalla setra, c'è un po' di fatica anche, è ben incastrato, il sapone, eccolo qua, il sapone, che riprende un po' la grafica del 2000, mi sembra se era il 2000, forse sì, profumo che non saprei descrivervi, sinceramente, ragazzi, dedicato, design della scatola di Francesco Castiglione, con fieno greco e acido iarulonico, quello per le rughe di noi che iniziamo ad andare per dianta quelli... Allora, io userei la ciotola, perché ho notato che montano meglio. ciotola... eh... eh... di eh... eh... personalizzata, adesso non mi ricordo più il nome del... un... un lapsus, il nome della... della signora che le produce, ma lo avete capito voi sicuramente, con... il simbolo del pirata. Adesso è uno scattel, che oggi uso come ciotola, non uso come scattel. Allora, io direi che potrei prendere, prelevare una bella noce di prodotto e farla metabolizzare dal pennello. Io uso questo metodo qua, ma... ma... ce ne sono tanti altri, non è che... per sprecarne di meno possibile. Il pennello la metabolizza, no? La digerisce, in poche parole. inizia... a montare nel pennello, no? E poi... un po' d'acqua calda... e iniziamo... il montaggio in ciotola. Che, devo dire... mi seranno a avere soddisfazioni. Elisabetto Occhi, ecco, Elisabetto Occhi, che ringrazio per avermi personalizzato questo manufatto. guardate come monta. Dedicato, eh? Natalizio, ma non quel natalizio pacchiano, è un natalizio che io non ho tanta sensibilità sui profumi, non saprei distinguerli, no? Ma... io direi quasi floreale, quasi agrumato. si sentono... si sentono i sapori dei mercatini di Natale. Quelle spezie, speziato, ecco. guardate che roba. 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 la rama scorre veloce, la zona del compagno è molto delicata, ma è efficace, il pelo è bene che è andato, ora andiamo in contropelo, ma in realtà come sapete il mio contropelo è strano, guardate il montaggio spesso, anche in seconda passata, e nella ciotola c'è ancora da mangiare, stai volendo una crema, allora, ecco qua, che è un obliquo perché il mio contropelo, anzi è un traverso, cioè nel senso che non è un obliquo, l'obliquo sarebbe così, come sono tagliato un po', stupidaggine, adesso qui invece, ottimo lo scorrimento, ottimo il risultato, sciacquata, asciugata, ed eccoci qua, perfetto, un bel BBS, come sempre io metto un pelo di tire, per così, ormai abitudine, un po' di congestione quando si fanno razzature un po' più spesse, no? e mentre lo lasciamo scadere e asciugare il tire, vi faccio di nuovo vedere il sapone, questo è quello qua, ecco qui. adesso è ora di tamponare, e di estrarre anche questa volta, la prima volta, l'after shave, o le toilette, eccolo qua, eccolo qua, non c'è la piramide olfattiva dietro, ma credo che sia coerente con il sapone, guarda che bella, si chiama la lusche, quando si fa con l'assenza questo, che viene bianco dal mix fra gli essenziali e... Vaniglia, io sento nella vaniglia, poi il donato mi dirà che ho detto una marea di stranzate, però sento nella vaniglia, sento le spezie, sento i legni, si natalizio eh, ci sta tutto, non è il classico natalizio quello con la cannella e l'arancio, per dire, però è... al suo perché, anzi, mettiamo un po' di... adesso lui si asciuga, io questo, ovviamente, distruggendo tutta la stanza, chiaramente, la stanza, il bagno, ci sono sempre gli asciugati comani che non sono sporchi, perché mi chiede, sono puliti, quelli che sono la lavatrice. Allora, e adesso, concludiamo, con questa crema, con appunto, tutta una serie di... qua vi faccio vedere il Vinci, se qualcuno interessasse, crema idratante per il viso, idratiamo il nostro viso, ecco qua che esce, che si spruzza proprio, attenzione, anche la fronte, con il Darmocchi, ecco qua. Allora, in conclusione, prodotti, sempre di alta qualità, quelli che sono dal mesi, non lo dico perché, è un omaggio, ma lo dico perché è la verità, in questo caso, questa combinazione, che io spero di non spaccare niente, perché oggi la vedo male, fra Natalizia, quindi, Sapone, All Toilet After Shave, e crema idratante. Ormai conosciamo Donato, come produce le cose, insomma, per me, come la penso io, insieme ad altri, attenzione, non faccio il partigiano di nessuno, ma è uno dei più validi produttori di queste cose, di questi saponi, di questi, in particolare, io lo apprezzo, sia per la nuova formula, che per, lo sciacquo, un altro inferiore del mestiere, che per la profumeria, che secondo me, più ancora dei saponi, che erano già di alto livello, hanno fatto, ha fatto un enorme salto di qualità, secondo me. Siamo ai livelli di profumeria di nicchia, secondo me, e poi, sarò io, non abbastanza, però, devo dire che, chapeau. Come chapeau, questo rasoio del 50 proprio, nel 50, che si è dimostrato, come sempre, una carezza, una carezza sul viso, nato per essere veloce, Infatti, in Italia si chiamava, o la pubblicità, si chiamava, speed, ehm, 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 si chiamava, come si chiamava, speed, ehm, comunque, con lo speed, cioè, praticamente, per essere veloci, toccano la metta, Gillette Silver, che, comunque, è, al pari dell'astra blu, eccezionale, e questo rasoio, ragazzi, può essere un rasoio definitivo, assolutamente, tutta la vita, tutta la vita. ehm, il pennello, dei pirati, che saluto, saluto tutti, gli iscritti, al canale, al canale, alla pagina, dei pirati, che, ehm, da Alessio in giù, insomma, come vedete, l'ho apprezzato, perché, guardate come, è già smelito il teschio, per la forza di usarlo, è, un maiale così, devo dire, anche grazie, a produttore, che il Marchese, è stato, è stato, veramente, una sorpresa, e l'ho usato moltissimo. Eh, bene, io quindi cosa volevo fare, gli auguri, buon Natale, buon Natale a tutti, passatevela bene, sbarbatevi, eh, magari ci rivederemo, sicuramente ci rivedremo, eh, non è che scappo, sono sempre qua, eh, quando ci sarà qualcosa da recensire, quando comprerò qualcosa, quando insomma, avrò cosa da dirvi, eh, in ogni caso, Facebook, sono lì, Telegram sono lì, insomma, chi vuol parlarmi, lo sa che sono sempre qua. Eh, buon Natale a voi, alle vostre famiglie, riposatevi, perché c'è bisogno, adesso c'è bisogno, un po' di stacco, eh, e poi si riparte, eh, anche per far ripartire questo paese, che, eh, purtroppo, con la pandemia e con la guerra, eh, sta soffrendo, e questo è un OT, che mi devo dire, perché, vedo tanta gente che comunque, rispetto agli altri anni, fa fatica. Auguri, 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 e buona barba a tutti.